Buonasera a tutti, iniziamo conferenza post partita con il mister Massimiliano Allegri. Salve mister, Marco Contelio, Tutto Mercato Web, buonasera. Volevo capire, ieri l'è stata fatta questa domanda, ho detto non ci voglio più pensare, se questa sconfitta, questa serata è da scrivere la parola fallimento, grazie. Fallimento no, perché nel calcio ci sono anche sconfitte, ci sono anche queste serate e questa deve essere un'opportunità per noi da domani, anzi da domani quando rientreremo, per rituffarci in campionato perché la stagione è lunga, siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per questa eliminazione, ma l'eliminazione non è stasera nelle partite precedenti, è normale che ci debba essere un percorso di crescita perché comunque una cosa che si sta ripetendo è che quando ci sono delle difficoltà ci allunghiamo un po' come squadra, però poi la squadra ha finito bene e quindi non è una questione fisica. Purtroppo dopo l'1-1 abbiamo preso questo rigore sul 2-1, abbiamo avuto l'occasione 2-2, poi l'avete vista tutta la partita, però bisogna continuare a lavorare, la nota positiva comunque è che quelli che sono entrati hanno dato energia, hanno dato tecnica, Meretti lo conoscevamo, Illing è la seconda volta che gioca, è un mese che è con noi, sta facendo bene, sono contento anche perché c'è energia fresca, lo stesso entrato su lei ha avuto una bella occasione per far rigirare la partita, e quindi non bisogna abbattersi perché purtroppo anche queste cose non vorremmo che succedessero, ma succedono e non è che dobbiamo piangersi addosso, anzi dobbiamo reagire perché comunque abbiamo un campionato da giocare, abbiamo una Europa League da conquistare, non sarà facile, abbiamo i giocatori da recuperare e quindi a domani bisogna solamente riprendere a lavorare. Radio Rai Daniele Fortuna, visto che dalle crisi nascono le opportunità Europa League ancora da conquistare, per il livello attuale di questa squadra, tolti gli infortuni, non è forse la soluzione migliore, cioè andare a giocare un'Europa League cercando di arrivare in fondo per ripartire bene il prossimo anno e per essere protagonisti in Champions. Allora, non è l'occasione migliore, quando si esce la Champions League si gioca per giocare la Champions League, poi dopo che si passi, venga eliminata all'ottavi, a quarti, a semifinale o arrivi in fondo, questo è un altro discorso, sappiamo tutti comunque che il livello della Champions League è altissimo, ci sono delle squadre di primissima fascia, però non è neanche giusto e dobbiamo essere molto arrabbiati perché siamo usciti da questa Champions League. Ora abbiamo tre giorni per preparare la trasferta in legge, che non sarà semplice, perché comunque bisogna dare continuità ai risultati, bisogna ricaricare energie, non piangersi addosso, come ho detto prima, e poi abbiamo Paris, che comunque è Paris Saint-Germain, che verrà a Torino e noi dobbiamo fare una vittoria, perché su cinque partite in Champions ne abbiamo perso quattro. Volevo chiederti se il fatto che quella mezz'ora finale con i tre ragazzi in campo è stata così positiva, se ti fa fare dei ragionamenti sul futuro, se in questo momento forse partire proprio da loro potrebbe essere un modo per dare una svolta, per provare a cambiare il corso di questa stagione? Partire da loro, sicuramente loro sono un buon ingrediente come entusiasmo, come intensità, come velocità. Poi Miretti comunque è un giocatore che ha giocato tanto, la parte finale dell'anno scorso e quest'anno. Il Ling è stata una scoperta super piacevole e quindi l'ho fatto giocare venerdì scorso, l'ho fatto entrare oggi. Su lei comunque sta crescendo, Gatti ha fatto la buona partita. È normale che sono ragazzi giovani che ci fanno solo che bene all'interno del gruppo. Buonasera, Alessandra D'Angiora, Esport. Ieri diceva che aveva paura di troppa euforia e troppo entusiasmo. Questa sera invece qual è la sua paura? Paura che magari i rimpianti si trascinino in campionato? I rimpianti non bisogna averne, non bisogna trascinarsi in campionato perché altrimenti si cade per rialzarsi. A me è la cosa che dispiace e che sono molto arrabbiato perché anche io avrei voluto arrivare agli ottavi, perlomeno andare a giocare l'ultima partita con il PSG in casa nelle condizioni di costringere il Benfica a vincere fuori e noi a vincere in casa. Ma non è così, quindi la realtà al momento è questa. Quindi bisogna concentrarsi su quello che è il futuro. Parlare di oggi e del passato non serve assolutamente a niente. Ho una squadra di ragazzi straordinari che non molano una virgola. Ci sono dei momenti in cui il calcio ti mette alla prova quando hai delle sconfitte. Sicuramente la prima parte di stagione è stata più difficile di quella che magari prevedevamo all'inizio del ritiro. Però abbiamo 20 giorni per cercare di fare bene in campionato e poi alla sosta e dopo la sosta sicuramente recupereremo quasi tutti i giocatori. Molto buona noite. Pergunto-lhe anche come tecnico adversario del Benfica e una volta che il Paris Saint Germain e il Benfica sono operati in questa altura per le 8e di finale, se considera la squadra portuguesa come una possibile candidata per conquistare la Liga dei Campeoni? Non so se potrà vincere la Champions League, so che ha meritato il passaggio. È una buona squadra, è un club che ha storia, che in Champions League affrontarla è sempre difficile. Noi stasera dovevamo rimanere dentro la partita perché comunque le occasioni sicuramente le avremmo avute. Invece abbiamo subito 4 gole, diciamo, che potevamo evitare o perlomeno crearli più difficoltà a loro nel farli. Buona noite, signor Allegri, Mario Serra per BTV. Sobre il gioco di oggi e sobre la equipa del Benfica, houve alcun aspetto desta equipa che l'ho impressionato di alguna forma o alcun aspetto che l'ho achato più difficile di controllare nel gioco? No, sapevamo che la partita era difficile, comunque il Benfica ha 20 partite che non perde, quindi ha dei valori. Una squadra che per 20 partite non perde sicuramente ha dei valori che sono importanti. Stasera noi direi siamo stati un po' leggeri nel prendere gol e su questo dobbiamo lavorare. Ultima domanda, grazie. Buona noite, Riccardo Fernandes, Notícias al Minuto. Hà cosa di una settimana, settimana e meia, José Mourinho, treinatore da Roma, che conosce bene, disse che nella Liga Europa iam cair, os falhati da Liga dos Campeões. La domanda che gli faccio è che considera che a Juventus è una destas equipas falhadas, o perlomeno, deve conoscere bene Mourinho, inquadra-se in una destas equipas falhadas? Lo ripeto, assolutamente no, fallimento sono altre cose. Nel caccio esistono anche le sconfitte, le sconfitte servono, si cade per rialzarsi, e quindi domani bisogna lavorare per pensare a quello che è il campionato. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.